Buongiorno amici investitori, buon inizio settimana e benvenuti in questa nuova puntata di Weekly Futsimib. Come di consueto nel lunedì analizziamo il principale indice di bolsa italiana per condividere le strategie operative valide per la settimana in corso. Durante la scorsa settimana le votazioni del Futsimib hanno perso terreno riportandosi velocemente al di sotto del livello tondo e psicologico 25.000 punti. Il quadro tecnico di breve periodo rimane ancora positivo mentre le votazioni rimangono al di sopra del supporto statico a 23.800 punti anche se da inizio anno l'andamento rimane ancora a favore dei venditori. Un recupero dei 25.000 punti potrebbe permettere l'implementazione di strategie di matrice rialzista con obiettivi identificabili in area 25.800 25.900 punti. Zona resistenziale che conta i minimi registrati in più occasioni da dicembre 2021 e la linea di tendenza che collega i massimi di gennaio e febbraio 2022. La positività nel breve termine verrebbe compromessa con la violazione del supporto a 23.800 punti movimento che potrebbe innescare un'ulteriore ondata di vendite con target in prossimità dei minimi di marzo in area 21.100 punti. Bene questo è il quadro tecnico del Futsimib da parte dell'ufficio studi di investire.biz. Vi ricordo che potete operare anche voi sull'indice di borsa italiano con i certificati long e short di BNP Paribas. Per farlo è semplice potete visitare il sito investimenti.bnpparibas.it nella sezione certificati taleva turbo e mini future potrete ricercare il vostro prodotto in questo caso tutte le categorie indici sottostante Futsimib direzione long ecco che vi compariranno tutti i prodotti dell'emittente francese che potrete utilizzare per la vostra operatività. Bene amici per oggi è tutto vi ringrazio per la visione non mi rimane altro che darvi appuntamento lunedì prossimo per la nuova analisi sul Futsimib. Buona settimana e buon trading a tutti.